Finalmente siamo riusciti a far partire i famosi PUC, i progetti di utilità collettiva collegati a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Ci abbiamo messo un anno di lavoro grazie anche alla tenacia della responsabile dottoressa Elvira Cavalli e anche il supporto dell'ambito territoriale. Siamo riusciti a realizzare, inventarci e poi realizzare questi progetti e impiegare queste persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Perché sono straconvinta e credo che i miei colleghi sindaci e poi anche loro riusciranno ad integrare questi progetti perché è giusto dare un sostegno a chi è in difficoltà e non lasciarlo in povertà. Però è anche giusto dall'altra parte che queste persone prestino delle ore di lavoro nell'ambito comunale, di competenza e successivamente di essere reinseriti nell'ambito lavorativo. E' importante perché comunque oltre ad avere un ritorno di lavoro sul territorio ma è anche un impegno per la persona che percepisce il reddito. Perché solitamente se no si richiudono dentro le mura di casa e poi con tutte le conseguenze che possono derivarne. Un progetto è partito lo scorso novembre, uno sta per partire, quanti ce ne sono? Allora uno è partito lo scorso novembre che era inerente alla mensa, l'altro che sta per partire è l'accompagnatore sui pullman dello scuola bus del comune di Montelabate. Poi ne abbiamo in programma altri inerente al decoro urbano, alla pulizia delle scuole esterne, quindi muretti, verniciatura muretti, panchine e cose varie. E adesso stiamo lavorando su un progetto inerente all'ufficio tecnico per impiegare eventualmente ragazzi o ragazze o signori insomma che percepiscono il reddito di cittadinanza ma che hanno delle qualifiche un pochino più specifiche. Quante sono più o meno le persone coinvolte in questi progetti? Allora attualmente le persone coinvolte mi sembra che siano quattro. Poi chiaramente bisogna distinguere chi percepisce il reddito di cittadinanza. Abbiamo una fascia di persone deboli che percepiscono il reddito di cittadinanza che non possono essere impiegati nei PUC. Poi abbiamo invece tutte le altre persone che erano sul lavoro, lavoravano e adesso invece percepiscono il reddito di cittadinanza e quindi vengono impiegate nei PUC.